Sono disoccupato e ho tre figli da mantenere. Questo in estrema sintesi quanto raccontato dal 27enne finito in manette per la tentata rapina in Piazza Zucchi nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Claudio Lara. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari a casa della madre, mentre la PM Laura Taddei aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il 27enne, originario di Napoli, difeso dal legale Giacomo Chiuchini, era stato arrestato lo scorso mercoledì. Quel giorno era entrato in un esercizio commerciale brandendo una pistola a giocattolo. Era stato poi messo in fuga dal titolare del negozio ed infine placato da alcuni residenti e commercianti della zona che lo avevano consegnato alla polizia. Anche agli stessi cittadini che lo avevano fermato, l'uomo aveva raccontato la stessa versione riportata poi al GIP nel carcere Aretino. Chiedeva scusa perché mi ha detto ma che hai combinato, che ti è venuto in mente, c'è un ragazzo giovane. Mi ha raccontato che aveva tre figli e appunto se hai tre figli vai a chiedere aiuto alle istituzioni, a chi di competenza, fate aiutare, c'è bisogno. Per il 27enne l'accusa è quella di rapina, adesso resterà ai domiciliari in attesa che venga fissata l'udienza per il giudizio.